ciao ragazzi vi mando tempo come state oggi vi farò un video speciale vi mostrerò come asciugare i capelli una cosa che vedete fa è bagnarti o aspettate che piove o vi versate una bottiglia d'acqua in testa oppure vi fate una doccia oppure mettete la testa nel vaso il bagno poi prendete questo arma del diritto fate a in realtà ci sono anche altri modi per sciogliere i capelli che poi vi dirò in qualche altro video iscrivetevi e alla prossima